SVI o con la pronuncia italiana CCSVI non cambia il significato e l'insufficienza venosa cronica cerebrospinale una patologia emodinamica di cui soffrono moltissimi pazienti di sclerosi multipla se, quanto e come, queste due malattie siano legate tra loro è argomento che oggi divide i medici e scienziati non certi pazienti che sperano presto di poter capire se intervenendo sulle vene giugulari e toracciche con un semplice intervento di angioplastica possono vedere risolti almeno una parte dei loro problemi primo tra tutti la stanchezza cronica ma anche altri disturbi che rendono ancora più difficile per ognuno di essi affrontare anche la più semplice azione quotidiana Quello che c'è da dire è che la CCSVI esiste ed è stato ormai approvato sempre dal punto di vista internazionale quello che è il trattamento, cioè la angioplastica dilatativa Ebbene, l'angioplastica dilatativa sappiamo viene fatta ormai da 30 anni ed è applicata tranquillamente nella medicina ed è un esame mini-invasivo da qui la necessità appunto di fare ulteriori studi per capire l'associazione tra sclerosi multipla e CCSVI Gli studi su questa patologia venosa e della sclerosi multipla sono stati condotti negli ultimi anni dall'equipe di Paolo Zamboni dell'Università di Ferrara in collaborazione con il Dipartimento di Neurologia dell'ospedale Bellaria di Bologna La sperimentazione ha confermato un'altissima correlazione tra le due malattie e è stabilito che la CCSVI insorge già nella vita intrauterina La patologia è stata quindi riconosciuta dalla comunità scientifica a livello mondiale 47 tra i massimi esperti di medicina vascolare di ogni paese hanno accettato le modalità di diagnosi e terapia del professor Zamboni Intanto sono state avviate collaborazioni con università di tutto il mondo Paolo Zamboni ha già riferito al Parlamento canadese sulla sua scoperta ma in attesa di poterlo fare anche davanti al Parlamento italiano proprio in questi giorni è stato convocato in Senato Ritardi nella sperimentazione che oggi vengono contestate dai pazienti Nuove associazioni chiedono più attenzione di visibilità e lo snellimento delle procedure La sclerosi multipla è la principale causa invalidante a livello giovanile In Sardegna la situazione è drammatica L'isola registra la più alta incidenza mondiale rispetto alla popolazione 3.000 ai casi conclamati, forse altrettanti non ancora manifestati I malati chiedono di essere sottoposti a diagnosi Diciamo questa grande magma di persone chiede semplicemente questo Va bene, vi diamo la possibilità di studiare la correlazione tra SIS-SVI e sclerosi multipla Prendetevi tutto il tempo che vi serve, che è necessario perché le tempistiche della ricerca hanno necessità di tempi a volte lunghi Ma nel frattempo curiamo chi ha la diagnosi di SIS-SVI e diamo la possibilità alla popolazione ai cittadini italiani e in questo caso sardi ad effettuare, a poter effettuare questo tipo di diagnosi Nell'isola agiscono la CCSVI Sardegna, la SASM Sassari, la LASM a Nuoro I movimenti crescono attraverso la rete ma lamentano lo scarso interesse della stampa tradizionale E non si fermano, su Facebook si contano quasi 2.000 contatti Il congresso che si è tenuto a Sassari e la presenza del professor Paolo Zamboni sulla rete è stato seguito da 24.000 persone Alla regione Sarda è stato proposto un progetto 110.000 euro per la formazione del personale sotto la guida del professor Zamboni l'acquisto di particolari ecodoppler, lo screening della popolazione e in caso di presenza della CCSVI la angioplastica nelle strutture pubbliche Siccome la Sardegna è purtroppo al primo posto nel mondo come casi conclamati il progetto che abbiamo fatto prevede una prima fase che è la diagnosi Cioè fare in modo che tutte le persone già diagnosticate con la sclerosi multima ma tutte le altre persone che vogliono sottoporsi a un'ecografia per verificare se hanno meno la CCSVI per vedere quanti sono le persone affette da questa malattia Io stessa e con me molte persone in Sardegna hanno già la diagnosi di CCSVI Noi ci chiediamo se effettivamente una volta che si è constatata la presenza di una patologia perché ancora oggi in Italia, cosa che invece non accade all'estero non si possa ancora effettuare il trattamento Il progetto prevede anche un percorso diagnostico prende in considerazione prima di tutto le persone con una sclerosi multipla severa in rapida progressione i cui farmaci attualmente e il commercio dispensati dalla clinica neurologica non procurano nessun beneficio poi ci saranno quelli in età pediatrica poi successivamente quelli con recidivante e relitente e poi man mano primariamente progressiva e secondariamente progressiva i costi delle apparecchiature sono per una regione come la Sardegna estremamente contenuti ovviamente tutti i risultati saranno poi divulgati sotto forma di pubblicazioni e a carattere scientifico Stiamo parlando di una sperimentazione che non riguarderà soltanto l'Italia, la Sardegna ma di un qualcosa che interessa il mondo intero milioni di malati nel mondo e che darà delle risposte molto probabilmente entro quest'anno se non l'anno prossimo le cose anche in Italia si stanno smuovendo abbiamo una serie di regioni che stanno iniziando cioè che la Sardegna ancora una volta sia l'ultima della lista beh francamente è veramente vergognoso nel mondo sono migliaia le persone liberate dalla CCSVI attraverso un semplice intervento chirurgico si parte anche dall'Italia e dalla nostra isola i nuovi viaggi della speranza difficile spiegare quali misteriose difficoltà invece rallentino la sperimentazione in Sardegna ed è difficile spiegarlo ai malati che pagano solo a propria pelle le conseguenze dell'assunzione dei farmaci solo per alginare il progredire della malattia la testimonianza di Loredana, ex dirigente di azienda madre di due figli tutte queste terapie che io ho fatto sono terapie che comunque mi hanno devastato per ultimo mi è stato diagnosticato un carcinoma tiuredeo per il quale sto facendo radiometabolica con coinvolgimento in diversi punti e quindi radioterapia allora io quello che mi chiedo adesso è questo se ho la possibilità di poter essere di poter avere una diagnosi di un'altra patologia che è appunto la CCSVI e per questa patologia essere curata e tutto ciò mi porta comunque a stare meglio perché questo diritto che è un mio diritto mi viene precluso se questa patologia esiste così come si dice e c'è io per questa patologia voglio essere curata perché in un contesto del genere dove comunque prendo quintali di cortisone faccio radiometabolica faccio chemioterapia non vedo perché non posso fare perché tra virgolette risulta essere ancora pericoloso un ecodopler e non capisco perché questo diritto mi viene precluso ecco questo che io non accetto una invocazione che non può cadere nel vuoto le associazioni proseguiranno la loro battaglia per la cura dalla CCSVI in attesa di risposte certe e rapide il meteo è offerto da ICNUSA bionda Sardegna grazie a tutti